Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi andremo a fare un lavoro veramente interessante alla macchina e soprattutto lungo e rognoso Siamo in compagnia di Lorenzino e Bon Gabriele E niente, mi raccomando, prima di cominciare il video vi dico di andare a dare un'occhiata al canale YouTube di Gabriele Lorenzo Si chiama Bella Zivi, vi lascio il link in descrizione, è molto interessante quando fanno veramente tanti video su particolari meccanici Ciao ragazzi, sono Mitch del futuro Ci tenevo a parlarvi un po' di questo video È passato circa un anno da quando è stato registrato e quindi mi sembrava giusto intervenire per raccontarvi qualche cosa In breve andremo a vedere insieme come abbiamo smontato la coppa dell'olio Come abbiamo messo la guardia insieme nuova e rimontato il tutto Diciamo a grandi linee potete farvi tramite questo video un'idea di quello che è tutto il lavoro Ho fatto questa manutenzione perché c'erano delle grosse perdite e in più perché non sapevo realmente la situazione all'interno del motore Ero curioso di andare a vedere come fosse in quanto la macchina l'avevo comprata da poco e comunque avevo la necessità di fare questo check Vedrete che la situazione che ho trovato non è stata molto divertente e positiva Però nonostante tutto a un anno da quando mi ho fatto la manutenzione della macchina non perde un filo d'olio, non mangia un filo d'olio, va benissimo Era semplicemente dello sporco, niente di che Quindi ragazzi vi lascio al video, buona visione Vi faccio vedere al volo i ricambi che abbiamo preso così capite anche i lavori che andremo a fare Abbiamo la guarnizione della coppa dell'olio, guarnizione del coperchio delle valvole, filtro dell'olio con il dadino, rondelline varie e olio Quindi come avrete intuito andremo a smontare la coppa dell'olio, sarà un lavoro abbastanza intenso E anche il coperchio ponterie così facciamo una pulizia praticamente totale di tutto quello che è l'impianto dell'olio Il clistere, facciamo un bel clistere Ragazzi qui la situazione è veramente brutta, veramente veramente brutta In quanto dopo aver rimosso un filtro e aver trovato un filtro così imbrattato di morchie È veramente stato brutto Perché non sapevamo neanche cosa poi avremmo trovato all'interno della coppa Ci siamo spaventati quindi siamo andati comunque avanti per vedere cosa ci sarebbe aspettato E lo vedrete a breve E lo vedrete a breve Praticamente adesso lo state segnando? Il tirante dello sterzo Ok come me lo segnate? Perché poi se stacchiamo questo dalla scatola poi il volante potrebbe perdere la posizione di zero Quindi non sappiamo ancora se dobbiamo completamente levarlo o basta semplicemente abbassarlo Secondo me va tolto però Come va? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh! e allora abbiamo tirato giù qualche madonna e la scatola dello sterzo e niente le condizioni sono... Dirty Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! A few days later! No, non è vero, dai, qualche ora dopo è andata una bella pulita la coppa. Come potete vedere ho fatto lo stravedi, best as we can! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!